Il 14 novembre ricorre la giornata mondiale contro il diabete, una patologia sempre più diffusa nella popolazione. In un anno così particolare non potranno di certo esserci iniziative che coinvolgano la cittadinanza, ma è sempre importante ricordare quanto la malattia possa incidere nelle nostre vite e quali sono i modi per prevenirla. Circa il 6% della popolazione italiana attualmente è affetta da diabete mellito e ancora una persona su tre non sa di avere il diabete. Quindi è fondamentale che il messaggio di una corretta prevenzione legata a uno stile di vita adeguato e a una sana alimentazione, un esercizio fisico frequente e regolare possa ridurre l'esposizione ai fattori di rischio per il diabete e quindi la comparsa della malattia stessa. Malattia che come sappiamo aumenta il rischio di complicanze cardiovascolari in primis, ma anche di amputazioni maggiori, di retinopatia diabetica, malattia renale e neuropatia diabetica. Per i malati di diabete oggi diventa fondamentale la figura dell'infermiere dedicato. Noi siamo gli infermieri, non siamo gli infermieri più bravi, ma siamo gli infermieri preparati sulla diabetologia. Perché la diabetologia non è ormai più la siringhina e il falso di insulina. C'è una tecnologia dietro incredibile e noi siamo preparati per supportare appunto il paziente per questa novità. Perché da noi vengono dei pazienti che non sapevano nemmeno di avere il diabete e si ritrovano a usare dei macchinari incredibili come il microfusore eccetera eccetera e bisogna fargli una terapia educazionale. La terapia educazionale non è solo per quanto riguarda quando falso insulina o come falso eccetera, ma proprio stile di vita, come mangiare, di tutto facciamo proprio. Durante la pandemia il Dipartimento di Diabetologia dell'ospedale San Donato di Arezzo ha potuto osservare alcuni aspetti legati ai pazienti affetti di diabete in correlazione con il coronavirus. I pazienti affetti da Covid per un terzo sono diabetici. Sicuramente, e questo adesso lo possiamo dare per certo, non c'è una suscettibilità legata al diabete ad ammalarsi di coronavirus, a prendere l'infezione. Purtroppo però il diabete è stato riconosciuto come una delle patologie che possono peggiorare la prognosi della malattia da coronavirus e quindi abbiamo il mandato da parte delle nostre società scientifiche anche di ridurre gli accessi in ospedale. Questo ha portato allo sviluppo della telemedicina per cercare di essere più vicini possibili ai nostri pazienti e possiamo con questa effettuare televisite ma anche teleconsulti con i medici di famiglia proprio per cercare di velocizzare il nostro intervento e non abbandonare nessuno. In questo momento la diabetologia di Arezzo è coinvolta in prima persona nella gestione del Covid. Alcuni di noi stanno effettuando turni nell'area Covid e di conseguenza questo ha portato purtroppo a una contrazione della nostra possibilità di assistenza ai pazienti. Colgo questa occasione per dire che tutti i piani terapeutici tutti i certificati di patente sono rinnovati e prorogati fino al 31 dicembre 2020 cosa che sicuramente ridurrà l'ansia e la preoccupazione di tanti nostri pazienti che telefonano tutti i giorni in diabetologia. Però voglio anche dire che troveranno sempre una risposta da parte nostra perché per fortuna abbiamo gli infermieri dedicati alla diabetologia esperti in questo che rispondono al telefono tutti i giorni per dare informazioni circa la possibilità o meno di svolgere le visite e dare più informazioni possibili su criteri di urgenza che ci possono essere da parte dei pazienti.